Per una città come Milano lavorare con i dati è essenziale e la nostra volontà è stata quella di fare un forte cambiamento integrando la statistica all'interno dei sistemi informativi e agenda digitale. La prospettiva è quella di avere un unico bacino di dati sia interni che esterni a cui possano affluire tutte le nostre richieste e che possa generare delle informazioni e quindi della conoscenza che permetta a noi del Comune di identificare sempre migliori servizi per i cittadini e ai cittadini stessi di conoscere meglio le informazioni della loro città.